Ciao, lui è a Rocchi, purtroppo è qui in Canile ormai da sei mesi, è un maschio nato nel 2014, che è qui in Canile perché la sua famiglia ha subito uno sfratto. È stato molto scioccante per lui passare da una casa a un bordo di un Canile, ma essendo un cane che ha voglia di vivere, vivace, affettuoso, nel giro di qualche settimana è riuscito a farsene una ragione. Adesso però aspetta una famiglia di nuovo tutta sua, perché giustamente ha diritto di giocare, correre, essere felice come forse lo era una volta. Noi vi aspettiamo, grazie.